Finisce quindi 0-0 la partita tra Roma e Juve, il big match di questa giornata, la Juve campione d'Italia per la settima volta consecutiva, che felicità, che emozione ho, ovviamente, guardate lo spirito, adesso ci guardate che festeggia, non si sono scordati pure loro quante volte hanno festeggiato negli ultimi anni, veramente. Sicuramente. Era facile che festeggiassero qua a Roma perché anche con un pareggio avrebbero vinto lo Scudetto e quindi abbiamo soltanto rimandato quello che non hanno fatto la scorsa stagione, e cioè vincere lo Scudetto in casa nostra. Scudetto meritato? Sicuramente sì, come ho già detto, il Napoli ha sbagliato troppi match point, soprattutto nelle ultime giornate, tu dovevi vincerle tutte una volta essere arrivato a meno uno, invece hai perso con la Fiorentina, pareggiato col Torino e quindi in meriti di non vincere lo Scudetto, pur avendo fatto un'ottima stagione. Parlando un pochino di questa partita, diciamo che è stata una partita un pochino, un po' bruttina, un po' bruttina, diciamo che nel primo tempo abbiamo giocato molto molto meglio noi, abbiamo ottenuto meglio palla, siamo stati più grintosi, aggressivi, l'unico problema è che, secondo me, verso i 20 metri c'era una linea di demarcazione che ho scritto di qui in poi non devi fare schifo, finché era da gestire palla, da recuperare palla, da fare pressione sui avversari, eravamo stati perfetti. Una volta che bisognava concludere l'azione con un bel tiro, una bella giocata, un qualcosa, ci siamo sempre mangiati le azioni, siamo venuti davanti e ci siamo mangiati tutto quanto. La Juve dal canto suo ha fatto una partita molto difensivista, nel primo tempo non ci ha provato quasi per niente, il secondo è stato soltanto ordinaria amministrazione, poi si è visto che dall'espulsione di Nengolani in poi hanno soltanto tenuto palla, proprio palle sementi. Io vi giuro, l'ultima mezz'ora di questa partita è stata una delle cose più brutte che ho visto nella mia vita in un Roma-Juve, perché di partite brutte ne ho viste quest'anno, però in un Roma-Juve è stato sicuramente un momento molto molto triste, perché comunque tutte e due le squadre non hanno voluto impegnarsi più di tanto, la Roma giustamente era in dieci e quindi non ha potuto spingere maggiormente, la Juve si è accontentata di tenere palla, tanto alla fine anche il pareggio andava bene a loro. Quindi nel complesso è il risultato che fa felici tutti, perché la Juve così è campione d'Italia, noi manteniamo il nostro vantaggio di più e due sulla Lazio, con lo scontro dietro che ci sarà passato la settimana contro l'Inter, quindi ci basterà pareggiare con il Sassuolo e saremmo matematici anche dalla terza posizione. E quindi come risultato va bene, lo ammetto, mi aspettavo un pochino più di spettacolo, però bisogna anche considerare le motivazioni dei giocatori, cioè i giocatori da Roma hanno saputo della sconfitta dell'Inter, del pareggio della Lazio e la stessa Juve aveva praticamente mezzo scudetto, anzi un 99% di scudetto in mano, quindi posso capire il fatto che non si siano impegnati nessuna delle due squadre. Mi fa ridere che sono sicuro che sotto questo commento, sotto questo video, molti napoletani mi diranno ah biscottone di qua, biscottone di là, ma anche se ci fosse stato un biscotto, voi che cazzo ve ne frega? Voi avete buttato il campionato con le vostre mani, quindi non vi potete lamentare se arrivati in questo momento noi ci siamo impegnati un po' di meno e la stessa cosa ha fatto la Juve, perché se voi aveste vinto con la Fiorentina e col Torino eravate ancora meno uno e oggi sicuramente si sarebbe visto un'altra partita, invece no, voi avete dovuto buttare tutto quanto all'aria così la Juve aveva fatto una partita brutta, non hanno neanche voluto osare più di tanto perché comunque si è visto negli ultimi minuti hanno voluto soltanto tenere palla e alla fine hanno vinto questo scudetto pareggiando per 0-0 e passeggiando diciamo all'Olimpico. Stessa cosa che abbiamo fatto noi, anche se secondo me abbiamo giocato meglio nel primo tempo nel secondo tempo purtroppo per colpa dell'espulsione giustissima di Nengolan, che ha fatto una cazzata clamorosa era già il quarto fallo che faceva da dietro in cui prendeva soltanto il giocatore era già ammonito, ha rifatto un altro fallo da dietro e quindi si è beccato una giusta espulsione per quanto riguarda gli altri episodi da Moviola c'è poco da dire, gol di Dybala giusto da annullare perché era un fuorigioco di una gamba e per il resto c'è stato veramente poco noi nel secondo tempo non abbiamo più tirato in porta la Juve ha fatto appunto quel tiro e basta, qualche punizione telefonata e quindi è stata una brutta partita veramente poco da dire, io non farò una recensione molto corta perché non mi sento di aggiungervi altro perché non si può analizzare niente cioè vi ho detto dell'espulsione, vi ho detto di questo e quell'altro partita bruttissima, partita noiosa l'unica cosa positiva è che per fortuna ci siamo arrivati in una situazione di classifica buona e quindi non abbiamo dovuto rischiare particolarmente di subire la sconfitta detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di Roma Juve 0 a 0 un saluto e sempre e comunque forza Roma ci vediamo domani per le pagelle ciao ragazzi